Siamo con Licio Di Biase per presentare questa riedizione a grande richiesta da parte della Vertigo, la casa editrice, ma non solo, anche dei lettori del processo a Carmela dove il fiume bagnava il mirto, il delitto passionale sulle acque della Pescara. Di Biase è una storia tra l'altro realmente accaduta? Sì, una storia che ho trovato su un giornale dell'epoca, questa cronaca del giornalista che parlò del processo che si tenne a Teramo dalla durata di quattro giorni, mi incuriosi moltissimo e ho trovato poi anche gli atti processuali. Una vicenda abbastanza interessante per Castellammare del 1893 dove c'è una storia, una tresca come è scritto proprio negli atti processuali tra una avvenente ragazza di 28 anni sposata e un giovane della zona, un artista. Ecco, non spoileriamo come dire il libro, ma come mai la scelta è caduta proprio su questa storia, per la sua particolarità? Sì, sì, per la mia particolarità, ma mi ha colpito molto questa cronaca del giornalista che in un numero unico di sei pagine ha descritto la vicenda processuale. Io poi la vicenda processuale ho fatto gli approfondimenti, ma è una storia veramente intrigante, tra l'altro per un periodo particolare, perché Castellammare si stava sviluppando anche nella zona pianeggiante dopo l'avvento della ferrovia. C'era questo giovanotto 18enne che era un pittore che andava ad acquistare i colori anche a Chieti e Pescara invece stava buttando giù la piazzaforte e quindi c'è anche il risvolto di Pescara perché il delitto avviene vicino alla Pescara.